Signori buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai, io sono il Master Kai e il vostro ospite su questo canale e con questo video finiamo il primo ciclo della rubrica dello scrivere una quest, è stata una lunga cavalcata e come tutte le quest che si rispettano è iniziata in un modo ed è finito in un modo totalmente diverso, benvenuti nel gioco di ruolo, nello scorso video avevo detto che nonostante la quest fosse finita ci sarebbe stato ancora un altro video che poi è quello che adesso state guardando, cosa rimane ancora da fare dato che la quest oramai l'abbiamo scritta? Il lavoro del Master non è ancora finito perché prima di archiviare il tutto bisogna passare per le considerazioni finali. Quello di esaminare le considerazioni finali alla fine del lavoro di scrittura, alla fine della presentazione di una quest è un lavoro molto importante per quello che riguarda il processo di automiglioramento del Master ma che purtroppo viene molto spesso ignorato non solo dai Master principianti ma anche da quelli più esperti. Lo scopo delle considerazioni finali è ovviamente vedere se la quest ha reso come lo aspettavate, se c'è qualcosa che possa essere migliorato e anche vedere se avete per caso fatto degli errori. Lo so che ai giocatori non bisogna dirlo ma adesso che siamo tra noi possiamo riconoscere che il Master non è realmente infallibile. Esistono molti metodi di autovalutazione, io in questo video vi illustrerò quello che utilizzo io, come sempre non so se va bene per voi ma potete usarlo come base di partenza. Io fondamentalmente divido l'autovalutazione in due momenti diversi, uno alla fine della scrittura della quest e uno alla fine della resa effettiva della quest in gioco. Cominciamo con la prima parte, quella da fare subito dopo aver scritto, chiamiamola l'errata. Quando avete finito di scrivere tutta la quest, preparare tutto il materiale che dovete preparare, prima di portare la quest al tavolo lasciate passare un paio di giorni e poi rileggete tutto dopo che vi siete un po' liberati da mente. Questo vi permetterà di distaccarvi un attimo e vi renderà più facile trovare non solo magari degli errori formali, avete sbagliato il nome di un png, avete sbagliato un calcolo, avete sbagliato il profilo del mostro, diciamo problemi minori. Ma prendere distanza dalla storia vi permetterà anche di rileggerla in una maniera diversa e trovare dei possibili buchi di sceneggiatura all'interno del Railroad che avete preparato. Per fare un esempio concreto, quando abbiamo scritto il nostro soggetto, in un paio delle proposte veniva detto che, dato che la proposta di legge era importante, sarebbe dovuto diventare un oggetto quest che in qualche modo i giocatori dovevano recuperare e portare al Parlamento per sbloccare qualche passaggio di quest. Ora, essendo stato introdotto quell'oggetto, la logica diceva che sarebbe stato utile darlo in quest. Il fatto però è che i giocatori avevano a disposizione il fantasma della persona che letteralmente aveva scritto la proposta di legge. Quindi tutta la parte sulla quest in cui loro dovevano cercare di recuperare la bozza della proposta diventava inutile, avrebbero semplicemente potuto farsela ridettare dal fantasma o, facendo ancora prima, portare il medaglione direttamente al Parlamento e far parlare il fantasma con la propria voce a dettare la legge per cui era stato ammazzato. È un errore che è molto facile commettere durante la scrittura, ma questo avrebbe compromesso un intero blocco di quest se non fosse stato scoperto prima che la quest fosse stata messa in scena. Dato che chi scrive la quest ha già un'idea di come dovrebbe svolgersi, questi errori possono capitare anche abbastanza di frequente. Sarebbe quindi sempre meglio che, dopo che la quest l'avete riletta, la raccontiate a qualcun altro a cui non avevate ancora detto niente. Il caso ideale sarebbe che questo qualcun altro fosse a sua volta un master che magari avesse già dell'esperienza con il tipo di regolamento che volete utilizzare, in modo che sia più facile per lui anche trovare alcune dissonanze con le regole, per esempio. Però semplicemente avere qualcuno a cui raccontare la quest nel caso qualcosa nella storia non torni e sia per lui più facile farlo notare, aiuta. Se proprio non avete nessuno a cui raccontare la quest, perché gli unici interessati sono i vostri giocatori a cui ovviamente non potete raccontare come va finire la storia, piuttosto raccontatela voi stessi, parlate ad alta voce raccontandola quest. Può sembrare qualcosa di stupido, ma in realtà parlare ad alta voce ci costringe a focalizzare le idee e quindi se state per dire qualcosa che non ha senso, se lo dite ad alta voce è più facile accorgersene. La seconda delle due procedure di controllo, io la metto in pratica alla fine di ogni sessione e poi faccio una revisione finale quando la quest è terminata. Alla fine di ogni sessione io chiedo ai giocatori di valutare la sessione stessa che hanno giocato e se vi interessa normalmente lo faccio chiedendo loro di esprimere eventuali domande, dubbio, perplessità. Sì, la frase che dico alla fine di ogni video è quella, l'origine di quella frase. Comunque, questo lo faccio sia per vedere se c'è qualcosa che possa essere migliorato nell'immediato, mettiamola così, sia per farmi un'idea di come la quest sta avvenendo nella mente dei giocatori. Diciamo che questa fase la possiamo chiamare il debriefing. Tutto questo è per evitare di rimanere intrappolati all'interno dei propri stessi bias. Magari qualcosa che per voi, che la quest l'avete scritta, è ovvio e date per scontato che i giocatori l'abbiano capito, potrebbe non essere assolutamente così. Ne abbiamo già parlato in un video precedente, vi lascio qua sopra il link nel caso dobbiate andarlo a recuperare. Allo stesso modo, alla fine di ogni sessione, segnatevi anche quello che per voi non ha funzionato o ritenete di poter migliorare nella gestione. Una volta che la quest è finita, prendete tutti questi appunti, sia i vostri, sia quello che vi hanno detto i giocatori e rileggeteveli. Ora, capisco che questo potrebbe sembrare una cosa assolutamente inutile. Una mai la quest è finita, anche ammettendo che ci sono stati degli errori, oramai è tardi per correggerli. E sì, effettivamente è vero, se avete sbagliato qualcosa in quella quest, oramai è tardi, ma quella sicuramente non è l'unica quest e se voi avete sbagliato a gestire una situazione in questa quest, se non ve ne rendete conto e prendete i provvedimenti, continuerete a fare lo stesso errore anche nella prossima quest. Se in questa quest i vostri combattimenti sono stati noiosi e i giocatori hanno trovato i png scialbi, nella prossima quest avrete altri png e altri combattimenti, ma saranno anche quelli noiosi e scialbi. Se una volta finita la quest invece perderete quell'oretta per rivedere i vostri appunti, vedere cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato, la prossima volta saprete cosa dovete migliorare, su che cosa fare più attenzione o mal che vada quello di evitare di inserire in quest perché a quanto pare non è nelle vostre corde e non lo sapete gestire. Per quanto riguarda la nostra quest possiamo dire che a questo punto l'errata è già stata fatta, guardando anche solo le visualizzazioni che hanno avuto i video, questa quest è stata rivista da almeno un centinaio di persone. Tutti gli errori che potevano essere trovati oramai sono già stati trovati. Per quanto riguarda il processo di debriefing non possiamo farlo perché la quest non è mai stata effettivamente portata al tavolo o almeno io col mio gruppo l'ho portata al tavolo. Non so se qualcuno di voi questa quest l'ha effettivamente giocata o ha intenzione di farla giocare ai propri giocatori. Non ditegli che è pubblica su internet nel caso ma comunque se qualcuno effettivamente l'avesse fatto fatemelo poi sapere nei commenti sarebbe interessante poter fare anche il debriefing all'interno della serie a futura memoria. Ho però voluto far passare lo stesso questo mese e poi rivedere la quest per vedere se comunque c'era qualche tipo di considerazione che poteva essere fatta anche solo in teoria in questo caso e effettivamente un paio di cose le ho trovate. Nessuna delle due è fondamentalmente un errore ma è qualcosa su cui si potrebbe discutere. La prima cosa è che la quest si è estesa oltre quello che era stato inizialmente stabilito. Quando abbiamo iniziato la quest l'idea era quella di fare una quest relativamente semplice che potesse fornire le basi a un master neofita per scrivere qualcosa di corto. In realtà questa quest è diventata enorme e mettendo assieme tutti i vari contributi ovviamente sono arrivate un sacco di idee quindi dispiace scartare le idee quindi ho cercato di mettere dentro il più possibile la quest è diventata lunga estremamente complessa in più è un thriller politico quindi anche lì c'è molto da stabilire molte informazioni da ruminare per i personaggi. Questo non è qualcosa di negativo anzi normalmente più una quest è lunga complessa più quella quest è interessante quindi ben venga i giocatori sono molto più interessati a giocare quest corpose e a giocare le quest là c'è il drago andato a pigliarlo. Questo però potrebbe portare un problema nel caso in cui le tempistiche della quest fossero un fattore importante. Se voi state scrivendo una quest corta proprio perché avete necessità di una quest corta magari dovete gestire una one shot magari dovete coprire il buco di un altro master per solo un paio di settimane questo sarebbe potuto essere un problema perché questa quest non dura due sessioni probabilmente supera la decina se non si inseriscono ulteriori incontri casuali e cose del genere. l'altra cosa che ho notato è che anche in questo caso essendo state messe insieme molte buone idee e soprattutto poi l'ultima parte del lavoro fatto da Gianluca Vecchi che ha fondamentalmente scritto per intero tutto il lore dell'ambientazione per l'ultimo video se non l'avete letto anche lì andatevelo a ripescare perché merita non ho potuto neanche fare il riassunto da tanta la roba che è arrivata comunque abbiamo messo insieme un'immagine molto concreta della città e molto dettagliata il fatto è che la nostra città di Accenturia funziona come la Gotham City dei cartoni animati di Batman tutto ciò che esiste esiste all'interno della città tutto ciò che è importante è all'interno della città ma la città di per sé potrebbe anche esistere sulla luna perché non si sa assolutamente niente di quello che c'è all'esterno neanche questo è qualcosa di negativo dopo tutto la quest non prevede che i giocatori escono dalla città quindi che le mura nella città in realtà siano fatte di cartonati e quinti e teatrali è perfettamente normale non c'è nulla fuori dalla città perché non deve esserci nulla però potrebbe essere un problema se la quest non fosse un'opera stand alone come nel nostro caso se per esempio questa quest dovesse essere inserita all'interno di una campagna o fungere da base per una campagna più grande forse sarebbe stato meglio avere meno dettagli sulla città ma un po più di contesto su quello che avviene nel mondo esterno dove si trova questa città fa parte di uno stato si capisce che è una città stato dato che abbiamo suo parlamento interno ma neanche quello è mai stato esplicitamente dichiarato nessuno in questi due è in realtà un vero grave problema però sono comunque cose su cui bisogna riflettere potrebbe potrebbero andare a influenzare le circostanze in cui la quest verrà effettivamente giocata diciamo che questo video termina qui è durato parecchio ma meritava perché è l'ultimo episodio dello scrivere la quest dalla prossima settimana ritorniamo con la programmazione regolare del canale anzi nel momento in cui voi state guardando questo video probabilmente starò lavorando a un video super segreto o segretissimo di cui farò foreshadowing ma non dirò nient'altro dato che qualcuno me l'ha chiesto sì la quest per ora è finita qui e diciamo è per questa stagione finita qui anche perché stiamo per arrivare alla pausa di agosto in cui finisce la stagione del canale non escludo però di riprenderla più avanti non so se già nella prossima stagione o magari tra un paio d'anni comunque è molto probabile che questa quest ritornerà e magari l'intera rubrica ritornerà magari con un formato diverso adesso vedrò poi diciamo che però per adesso non ci sarà una seconda edizione come sempre se avete domande dubbi o perplessità scrivetele nell'area di commenti qui sotto adesso sapete anche perché lo dico se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate il tasto della campanella se volete ricevere le notifiche io sono il master CAE noi ci vediamo nel prossimo video